Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo ancora dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica si segnala che stanotte per lavori di manutenzione delle gallerie in orario 21.6 rimarrà chiuso il tratto tra Aglio e Pian del Voglio in direzione Bologna. Treni si ricorda che per lavori di raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Empoli-Siena fino al 31 agosto la circolazione tra Empoli e Granaiolo sarà sospesa. Servizio riprogrammato, concorse bus e sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze per lavori di adeguamento della rete idrica fino al 31 agosto piazza Rodolico rimarrà chiusa tra Via Livenza e Via del Cimitero del Pino sul confine con Bagno a Ripoli. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!